Disegnatori d'epoca e vignettisti contemporanei insieme per illustrare la costituzione a colori mostra con cui il consiglio regionale del Piemonte rende omaggio alla carta costituzionale nel settantesimo anniversario dalla promulgazione. L'esposizione raggruppa un centinaio di vignette satiriche selezionate consultando le raccolte storiche di circa 100 testate italiane fra il 1943 e il 1948 più una serie di tavole commissionate ad hoc a quattro disegnatori contemporanei. Di costituzione si parla tanto ma non la conosciamo così bene per cui questo è un modo attraverso l'illustrazione umoristica di poterne parlare per ricordare quali sono i principi quindi anche un valore didattico. Tra le vignette d'epoca più curiose quelle disegnate da Federico Fellini con una striscia di Giacomino e la testa di Giuseppe Garibaldi. che capovolta diventa il volto di Stalin a cui si affiancano vignette inedite dei primi 47 articoli della costituzione illustrati da quattro disegnatori contemporanei Fabio Sironi, Lido Contemori, Marco De Angelis e Gianni Chiostri. Ad inaugurare l'esposizione il presidente del consiglio regionale del Piemonte con il costituzionalista Mario Dogliani per spiegare il valore della carta costituzionale. La costituzione fu un accordo tra forze politiche diverse le quali trovarono dei tratti comuni. Gruppi diversi portatori di ideologie a limite insomma chiuse trovano però un punto punti in comune come se si sovrapponessero pezzi diversi e i pezzi sono diversi quindi rimangono soli trovano un cuore comune. Questa è l'idea di compromesso che fonda tutte le costituzioni ed è giusto che sia così, è doveroso che sia così ed è bello che sia così. Già Platone diceva che la politica è l'arte resa la più nobile delle arti e la paragonava alla tessitura cioè la capacità di tenere insieme fili di diversa grandezza, robustezza, colore eccetera per creare un bel tessuto. Grazie a tutti.